L'omaggio a Estra di Vittorio Sgarbi per la sua capacità di investire nel territorio e a sostegno dell'arte e delle attività sportive e culturali. È senza giri di parole. Mi pare una scelta felice quella di Estra di avere patrocinato la mostra di un grande artista giapponese come Ugoriva che trova spazio nella fortezza medicea dando ad essa la destinazione naturale di luogo dove i grandi scultori del nostro tempo possano mostrare il loro rapporto con il passato e con la grande tradizione classica. Quindi che l'iniziativa sia sostenuta da una energia come quella che rappresenta Estra è un segnale positivo e anche uno slancio in avanti di città che vivono sempre in difficoltà per le amministrazioni sempre più penalizzate per la parte che riguarda le attività culturali. Quindi poter integrare in città come vive di energia quello che le amministrazioni non riescono a sostenere mi sembra una cosa giusta e nobile. Estra è main sponsor della mostra La Porta dell'Angelo di Ugoriva con il contributo di CoinGas che resterà aperta fino al primo ottobre alla fortezza medicea di Arezzo. Una continuità ideale in questo bellissimo luogo con la scultura. Ricordo a tutti che abbiamo salvato la nostra fortezza dalle porchette e dalle mortadelle perché questa era destinata a diventare la fortezza dei sapori. Ecco abbiamo la fortezza di Riva e di Taena. Sono le cose più belle che possiamo esporre in questo luogo meraviglioso. Una mostra ideata e curata da Vittorio Sgarbi. Credo che Chinelli abbia saggiamente determinato il destino di Macri togliendolo da una politica facile di strada e sollevandolo alla rimensione ultrapolitica di amministrazione di un bene comune che è il gas in cui occorre stabilire se buttare i danari in i castiche imprese oppure fare delle imprese semplicemente belle. C'è chi le fa i castiche e c'è chi le fa belle. Si è deciso di optare più per la bellezza. In questa città non va male. E sollevarci una dimensione invece eroica, epica, mitologica, leggendaria, onirica. Ecco, tutto questo è un po' ciò che unisce su fronti diversi le scelte fin qui fatte di Taiber e di Riva. Sono entrambi degli artisti che appartengono alla dimensione che non è quella trista del nostro tempo in cui le scorie, ciò che è abbandonato, ciò che è trascurato, ma invece l'idea di un afflato eroico, veramente dannunziano. Siccome c'è ancora spazio per questo, quello che ho chiamato Rinascimento, l'idea è che questo sia un luogo in cui la Fortezza Medici accoglie opere non deboli ma forti, ambiziose, piene di slancio verso il futuro, anche se collegate a un passato così radicato che non puoi eliminarlo dalla tua rappresentazione. Quindi il passato è la benzina di queste invenzioni, il casto di queste invenzioni, ma il presente è un presente che ha le ali, che va verso l'alto, leggendario. La mostra è composta da 22 sculture e 7 disegni, che nasce dal genio artistico di Ugo Riva e dalle sue iniziali istanze impressionistiche, che poi lasciano spazio ad una classicità più matura. Un percorso di un uomo che ha 65 anni, ha attraversato un bel pezzo di vita e qui dentro ho la raccontata, quindi sono una serie di opere, alcune quasi mai uscite dal mio studio, non assolutamente in vendita, tutte opere prettamente personali che raccontano un mio percorso e il mio porsi continuamente, pormi delle domande, da dove vengo, chi sono e dove andrò a finire, insomma. Un contributo all'arte che vede Estra in prima fila. Azienda come la nostra, che invece di allontanarsi dal territorio inseguendo modelli commerciali nazionali, da azienda nazionale qual è, decide di rimanere con i piedi piantati a terra e di contribuire con amministrazioni avvedute al rilancio del nostro territorio. Quindi noi oggi salutiamo questo bellissimo connubio tra arte e storia, dove una mostra bella come quella di riva esalta anche il contenitore, la nostra fortezza che è identità e storia, quindi arte e storia per rilanciare la parte alta della città e la nostra economia.